14 maggio, domenica. Decidiamo di addentrarci nelle terre del regno, là, nei boschi dimenticati, tra la montagna dei fiori e valle Castellana. Così, superato Castel Trosino, iniziamo a pedalare in direzione San Vito. Grazie a tutti. Raggiunti Corano e Croce di Corano, imbocchiamo la discesa e ci dirigiamo verso l'ultima frontiera, la Turu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti La Turo, il più suggestivo dei borghi fantasma in queste terre ormai dimenticate. Grazie a tutti Il fosso per raggiungere Olmeto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti